È iniziata la 79esima mostra internazionale del cinema di Venezia, mentre Hollywood sbarca in laguna, anche Lario è in missione per promuoversi come ambientazione di produzioni cinematografiche. Per tutta la durata del festival, che si chiuderà sabato 10 settembre, il Lago, con i suoi magnifici scorci, sarà a Lido, con un proprio spazio tra i colossi del grande schermo. Tra gli eventi organizzati da Fondazione Enti e dello spettacolo in collaborazione con Fondazione Lario Fiere e con la Camera di Commercio di Como e Lecco, due momenti saranno dedicati a far conoscere il territorio lariano a case di produzione, registi e sceneggiatori. Lunedì 5 settembre si indagheranno le sue potenzialità narrative per il mondo dell'audiovisivo, con Don Davide Milani, Presidente della Fondazione Enti e dello spettacolo, Lorenzo Riva, Vice Presidente della Camera di Commercio, Fabio Dadati, Presidente di Lario Fiere e con l'autore bellanese Andrea Vitali. Mercoledì si illustreranno le potenzialità del Lago per il settore cinematografico. Cinema, TV e social media sono strumenti fondamentali per promuovere e far conoscere il nostro Lago una platea sempre più estesa, commenta Marco Gallimberti, Presidente della Camera di Commercio di Como Lecco. Essere presenti al Festival di Venezia è strategico, consente da un lato di promuovere la destinazione sulle piazze internazionali e dall'altro di consolidare le filiere dell'indotto. Non resta quindi che attendere di scoprire quale sarà, dopo i più recenti The House of Gucci e The Old Guard, la prossima pellicola ambientata sulle nostre sponde.